quello che capita al pittore di fronte alla tela vuota non è mai una cosa data per scontato il pittore spesso è come se pensasse con le mani c'è una perfetta affinità tra il pensiero e le mani non si può realizzare nulla senza senza poi farlo effettivamente il quadro si evolve durante l'esecuzione anche scendendo a patti con la con la materia stessa che lo compone perché la materia in sé è estremamente comunicativa e voglio pensare che questa sensazione che il materiale restituisce al pittore durante l'esecuzione possa poi essere conservato anche nel tempo una volta che il quadro è concluso ogni materiale pone al pittore delle problematiche completamente diverse mi sono trovato ad avere a che fare con diversi materiali diversi soggetti e lo stesso soggetto dipinto con materiali completamente differenti come potrebbe essere appunto la cenere l'olio dove l'olio di motore garantisce poi un dipinto finale completamente differente la cenere è stato il primo materiale che ho scoperto era il 2004 se non sbaglio il primo lavoro che ho realizzato con la cenere prima ho sempre lavorato con materiali con dei pigmenti monocromatici ma non avevano origini naturali così così specifiche la cenere è un materiale interessantissimo perché ha il vantaggio di essere completamente impalpabile e senza impurità tant'è che veniva utilizzato nella cultura sia pontadina che anticamente veniva utilizzato per variati usi dallo sbiancare i tessuti al pulire i vetri al dare azoto nei campi il senso della cenere è anche fondamentalmente legato a una quasi una liturgia quasi una liturgia della pittura non a caso la cenere e l'olio sono i due elementi principali delle molte religioni sono due elementi purificatori proprio perché la cenere ha attraversato il fuoco un elemento purificatore ora è un elemento perfetto e senza batteri in più la cenere conserva la memoria del legno con busto la cui ha origine e questo fatto mi ha sempre profondamente colpito mi ha spinto poi a cercare la cenere di diversi legni in diverse aree geografiche in italia e anche anche all'estero mi è capitato di ritornare dal canada con la valigia piena di cortecce di betulla e da quello ricavarne un cenere molto particolare molto molto fine molto fottile il flash of power the gleam of oil in the sky the power of oil conquering the heights on the sea the might of petroleum pulsing in great engines of the liners that traverse the deep on land oil feeds the fiery furnace or drives the diesel engines along far flung rails of steel and on the open road well you know what makes your auto run for millions of years this source of power slept peacefully in the dark recesses of the earth until modern magic loose the liquid energy from its subterranean prison dopo praticamente sei anni che ho lavorato con la cenere ho voluto cercare un materiale che avesse in qualche modo un legame seppur vegetale comunque all'origine del petrolio che è anticamente un legame vegetale un'origine vegetale cercavo un materiale che fosse più legato alla contemporaneità al nostro tempo e dopo un po di esperimenti ho fatto una buona un buon lavoro con dell'olio di motore l'olio di motore ha una fortissima pigmentazione che è olio di motore esausto per cui chi è passato attraverso la macchina mi piace pensare che esista una traccia di memoria all'interno del materiale che usa conserva in sé una memoria di storie di una biologia di una biografia di tutte le persone che con quel materiale sono entrate in relazione la ricetta di un'olio di motore la ricetta di un'olio di motore più la materia è nera più si ha difficoltà a ottenere i bianchi proprio perché si dipinge spesso sul bagnato quindi più la pigmentazione del nero è profonda più raggiungere la luce il bianco risulta complicato prima di scoprire proprio la terra e la cenere come pigmento principale del mio lavoro prendevo i pigmenti puri che avevano questi nomi terra di siena bruciata nero di lampada oppure terra di siena naturale ocra gialla soprattutto le terre avevano proprio nomi molto semplici mi sono semplicemente chiesto quale fosse l'origine di questa terra la terra di siena naturale è terra di siena naturale per cui se a Siena effettivamente c'è un colore della terra molto rossiccio con quella particolare sconatura che è esattamente il colore terra di siena naturale proprio esattamente quello quindi mi sono chiesto perché dovrò lavorare con il tubetto quando posso in realtà avere una relazione con un paesaggio con un luogo fisico e geografico con delle persone con una storia con una cultura in una determinata area geografica mi sembra più interessante recuperare questo aspetto anche performativo all'interno della pittura e andare nei luoghi specifici a raccogliere dei materiali che possano aprire anche il senso di un lavoro sotto molte altre specie Fernando Pessoa diceva che le cose sono più del tempo in cui sembrano cambiare più dello spazio che sembra contenerle e dava enfasi a questo sono per cui non uso, non sono solito usare la cenere, l'olio, altri materiali come simboli perché simboli di qualcosa ma li uso proprio perché sono l'uomo di terra è una novità nel mio lavoro praticamente nasce da una suggestione molto semplice l'idea dell'uomo impastato nell'argilla che è un'iconografia pressoché ancestrale con moltissime religioni mi interessava il fatto di lavorare fisicamente con una materia come la terra prelevata in questo caso in Toscana andare in un luogo, a prelevare in un determinato luogo quella determinata materia immette il soggetto in un universo più ampio in di un'escalata Lavorare con la carta intelata mi permette di dare senso all'immagine anche dopo che l'immagine è stata dipinta per cui il dipinto è soltanto l'inizio Dopodiché si apre tutto il mondo della manipolazione dell'immagine che apre nuovi significati, nuovi sensi L'origami è un gioco che mi piace fare con la carta perché permette di strutturare l'immagine di frammentare l'immagine attraverso delle linee che vanno a crearne quasi una struttura quasi una struttura nascosta quasi una struttura preesistente dietro l'immagine stessa L'ultimo intervento che faccio sulla tele sono appunto dei segni bianchi strappi, crepe, soggetto è come se avesse bisogno di un layer che incastri tutti questi elementi e il layer è così aiuta l'animismo del quadro esplicita la direzione della luce concentra l'attenzione dell'osservatore in un determinato punto e sia tiene assieme tutti gli elementi quando finisci il lavoro a un certo punto dici ok è chiaramente così cioè la pittura questo segno bianco deve arrivare esattamente da quella direzione poi chiaramente sceglie lui la forza è casuale quando mi sembravano troppo casuali allora ho voluto cercare anche invece un senso maggiore per cui da una parte spesso sono una forma del soggetto però ripresa da una vista aerea e poi sono diventate invece una traccia umana all'interno del paesaggio quasi anche in quel caso la figura nel paesaggio non esiste non c'è, non appare però c'è una traccia sono arrivato alla convinzione che alla fine non esiste differenza tra il paesaggio e la figura soprattutto per come la tratto io e questo concetto l'ho voluto esplicitare in una serie che ho chiamato Aleifar Canon che si riferisce proprio al tema del canone greco non da un punto di vista formale che non mi interessa più da un punto di vista concettuale ma il paesaggio non incontra mai la figura e viceversa sono in un costante dialogo senza mai quasi afferrarsi la balena in sé l'ho sempre vista come un paesaggio vivente proprio perché l'occhio umano non riesce a cogliere la balena nella sua interezza qualcosa di spuma come la memoria come i ricordi mi ricordo per esempio quando ero piccolo di aver abitato nella casa dei miei nonni era una casa come quella di molti nonni piena di tessuti tappeti molto molto densi molto con una decorazione molto pesante e mobili anche molto pesanti mi ricordo che quando dormivo appunto nella casa dei miei nonni sentivo nella stanza di fianco i miei nonni parlare e le voci mi giungevano vattate come da un da una profondità marina e in quei momenti mi ricordo di avere pensato al canto delle balene in cheio in cheio Grazie a tutti. Ogni tela è regata ad un ricordo di infanzia, di quello che ho voluto chiamare le planimetrie della memoria, ossia il ricordo di tutte le planimetrie di tutte le case che abbiamo abitato nella nostra vita. Planimetrie che abbiamo imparato e poi abbiamo dimenticato. Le Strange House in the Wood rappresenta una serie di boschi trentini. Per la precisione sono in una zona sopra Breston. Mi capitava spesso, passeggiando nei boschi, di accorgermi di come passeggiando tenessi lo sguardo fisso verso le radici degli alberi, verso il basso piuttosto che verso l'alto, quasi a ricercare una specie di percorso, un sentiero che non esisteva all'interno di questo bosco, quasi a cercare un punto di arrivo, un traguardo, un luogo da raggiungere. E questo Strange House in the Wood è proprio questo luogo. Tant'è che ho lasciato il titolo Strange House in the Wood anche quando la casa non c'è. La sensazione che ho avuto passeggiando in quei boschi era di raggiungere un luogo che non esisteva o che non esisteva più e che magari esisteva in passato. La pittura è una dimensione che non si applica mai completamente, per cui è un lato di mistero che difficilmente con le parole si riesce a comunicare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.